Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona, confine di stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona, tranceva il millesimo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento impalcato del viadotto Mollere Sud dal 7 novembre al 9 aprile. Tranceva il millesimo, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di adeguamento, barriere di sicurezza, viadotti Chiappa e Onzerini dall'11 aprile al 31 gennaio. Tranceva il millesimo, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento Galleria Montezemolo dal 3 ottobre al 6 dicembre. Tranceva il millesimo e altari, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento della sicurezza fino al 31 dicembre. Direzione Torino, tranceva il millesimo e ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo dall'11 novembre al 31 dicembre. Tranceva il millesimo e ceva, restringimento della careggiata in regime di deviazione della careggiata sud per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere-Sud dal 7 novembre al 9 aprile. Tronco a 10, Savona 20 miglia, confine di Stato. Direzione Italia, careggiata sud tra Imperia Este e San Bartolomeo, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta. Per adeguamento, manutenzione e barriere di sicurezza viadotti Varcavello e San Pietro dal 13 dicembre al 17 dicembre. Tronco a 11 novembre, tra Imperia Este e San Bartolomeo, chiusura della corsia di marcia per manutenzione e barriere di sicurezza viadotti Varcavello e San Pietro dal 13 dicembre. Tra finale Ligure e Spotorno, careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento Galleria Carpania dall'11 al 17 novembre. Tra Spotorno e Savona, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dall'11 al 17 novembre. Direzione Francia, careggiata nord tra Savona e Spotorno, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dall'11 al 17 novembre. Grazie a tutti.